Bentornati per una nuova videosfida. Questa volta il videogame della questione è Mooncresta, lo shooter spaziale in formato Commodore 64. Il classico guanto di sfida è stato lanciato da Grande Cinema con Marco, che ha effettuato per primo la partita, e in descrizione troverete il link per vedere il suo gameplay. Successivamente anche Giovanni, con il suo canale La Macchina del Tempo, si è cimentato in Mooncresta. Ovviamente man mano che i ragazzi del gruppo inseriranno i loro video, io li andrò ad inserire aggiornando la lista. Quindi di sicuro si aggiungeranno anche a Roberto un'idea ATP, Zombie Gamer 80, eccetera eccetera. Come ben sapete queste sfide hanno un loro regolamento, e nel gameplay che andrete a vedere ci saranno tutti e tre i miei tentativi. E' inutile stare a dire che la mia partita migliore è stata appunto l'ultima, visto che giocando ci si prende la mano e si riesce ad andare avanti. Per il resto ho cercato di capire qualcosa sulle meccaniche del videogame guardando i video altrui. Per oggi quindi è tutto, vi lascio ai miei tre tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video sfida. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. E' inutile stare a tutti i miei tentativi, e noi ci ritroveremo sempre qui per un'altra video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.